Non mi fare neanche la pubblicità del tonno a quel finto comandante lì, anzi gli farei fare la fine del tonno, non di scatola ma in gabbia a lui e vista che si fa una tipesce a quella trota della Moldava. E se poi Schettino volesse scrivere un libro, gli do un suggerimento per il titolo, Le mie prigioni, Sass Diego. No, io il libro lo chiamerei 71, o me merda, così lo chiamerei, e poi a quella Moldava vedrai che gli faranno fare un film a quella lì, dai. Questo è come gira il mondo, hai capito? Cioè tutti i giorni accendi un televisore con questi cazzi di telegiornali, puttane, ladri, accattoli, politici che rubano, cioè non si capisce più che... Ma poi, tu che rubi, che sei, hai una carica pubblica, se becco, se becco un cittadino lo mette in galera, ma tu che doveste essere un esempio, che hai una carica pubblica, come fanno in altri paesi, ti taglio le mani, ti taglio le mani, hai capito? Invece questi non li mettono neanche in galera, paese dei parocchi.